ciao 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 questo è un video per le mie amiche su tik tok allora ho fatto un bel trucco che potete vederlo su youtube perché era troppo lungo e qui non ci sta e io non sono capace lo sapete benissimo non sono capace fare quei montaggi quei montaggi bellissimi che fanno tutte queste ragazze giovani che sono meravigliose che riescono a montare e smontare io no non fare presa diretta quello che viene viene allora ve lo faccio vedere così un trucco sul viola lilla e niente se vi piace o andate a vederlo di la persona su youtube oppure farò un tutorial mi dite sì mi piace voglio vederlo vedere come fai e cerco di farlo più breve cianciando un po meno in modo da riuscire a farvi vedere tutti i passaggi guardate ancora ok ciao a tutte salutone ciao mi alzo perché qua vedete faccio faccio i video in modo proprio casereccio ciao a tutte